Il codice metti per favore cazzo e basta invece che Biosphere I, punto e virgola, chiocciola, cazzo in culo Che c'è? Sei un cretino sei No Fra, no, non ho selezionato No Che c'è? No No, laggiù c'è il mare, questo è un promontorio e lui sta guardando tipo viandante sul mare di cazzi Così Sta facendo, è un'azione Cosa sta facendo? Lui sta Osservando No, mamma mia che mostro Con quale culo, con quale culo Verbo all'infinito Incredibile Questo verbo non era nel mio vocabolario Fra? Fra, è un po' un cazzo a disegnare È Gary, è palesemente Gary di Spongebob Sì! Le stelle sono tante, milioni di milioni, il salame dei nec... Oh, incredibile Ho fatto i miei primi 23 points Incredibile, pazzesco Nooo, che cazzo è? Eccola Ragazzi, ma cos'è? Questo è una persona molto piccola Vabbè, non c'è un corpo È Gesù Fate finta che è Gesù Ok Poi c'è un'altra persona sta laggando perché sto renderizzando Dio strappo Buonasera Praticamente Praticamente È qua accanto Ok È Che vada A Gesù Non è la Madonna Però questo non è Gesù Non è Gesù È un bambino questo È un bambino Ok, questo è un bambino Non è Gesù È un bambino E questa è una persona che guarda il bambino Però non è la babysitter Che cazzo fa? Un pedofilo cos'è? È la babysitter Ma non è la babysitter E quello è il problema Che cazzo vuol dire? Che è scritto in una maniera impressionante Io penso non esista nemmeno un termine del genere Ehm Eh? Non esiste questo termine Ehm Ma cos'è? Ma cos'è? No, no Ragazzi il nome è Bambinaia Bambinaia È Bambinaia 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 Peter Pannelli usavano Bambinaia Bambinaia Ma vaffanculo Utilizzavano nel 1300 Bambinaia No Non È proprio questa Non penso No ragazzi non è possibile È quella che si mette nei video Quando uno dice Porco di Top No, guarda cosa ho scritto Mesura Mesura Che cazzo ho scritto Va bene Allora Spera a casa No Cane Ma che cazzo Eh? Ma questa non è difficile Top 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 Ma è in inglese? Top Che cazzo è? No no È in italiano Ma che cazzo è? Questa è una mano Che porta Vaffanculo Basta Faccio solo 23 punti In Germania È talmente tanto tempo Che non si ricorda Cazzo È appunto Diodare Che cazzo è? È diodato all'infinito Diodare 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 Ma disegnerò mai io? Cioè Vabbè No no Tu non puoi disegnerlo Io in secondo round Non l'ho fatto Ah questa è easy Farfalla No farfa Ok tu devi considerare Questa cosa qua Ok ma nel dettaglio Tu devi considerare Questo No non è possibile No Ma vaffanculo Comunque usa una tavoletta grafica È comodissimo Ma vaffanculo Ma vai a cacare Che bastardo Ma sei un bastardo Flame andando a disegnare Allora Sto ruminando Questa è un capolavoro È una faccia Questa non l'abbiamo trottata Che stai ruminando No aspetta Cos'è che è questo? È una faccia È una faccia È un capolavoro Ines Ma che monse Che sdrogo Ragazzi Ok Gli egizi Dai Ma porca ma Hai fatto anche la scrittura cinese In fondo Cos'è quello? Volevo scrivere Ma poi No è una zeta Una persona Abbiamo una persona Con l'introcefalia palesemente Perché ha una testa enorme Cos'è? No Non esiste Cancellato Cos'è? Non esiste È morto È esploso Ah godo Godo Dai Scrivici per due Scrivici Spiazze per i ragazzi Spiazze per i ragazzi Perché potevano vincere anche il 12.000 A zero Siamo io Mamma mia Che Che mostro Mamma mia Rimontone Rimonta is real Robi astruse Incredibili No Ma come cazzo? Ma che Vabbè Allora Fallo questo No Dov'è Grigio To Is Dai raga Ma Ragazzi Ragazzi C'è storia Più 100 sul secondo Por Cos'è? Un botto di sangue quello? Nelle budella? Razor Dai Dai Ma che in Germania ti hanno distrutto il cervello? In Germania In Germania esistono solo Kraut Io non capisco Non esistono questi in Germania Non esistono Accendi con la mano la Prendi da un po' L'acqua La bevi dai rubinetti e basta Io ho fatto tutto Flam Direttamente Si tratta per il secondo posto Il primo ormai Ragazzi Eh ma disegna lui Get all my level Il get all my level è un cazzo Un mostro Tanto ne facciamo Potresti aver vinto Ti faccio indovinare Flame Tanto ne facciamo due Ve lo dico subito Yes Ragazzi non c'è storia Dai Salame Dei Dai raga Ultima partita Is E poi si va Sono curioso di questo Ottavio Cavalcatore di Caribù Secondo me È Tre Ape dio Tre Giuro non sto Che cazzo è Eh Eh Nc S Basta spammare Paramu Aspetta Sì ma io non ho cercato Bastardi eh Non ho cercato neanche io Ma vai a cacare Dai ci sei Ci sei Le stai dicendo tutte Le stai dicendo Allora è O P Alla fine E non è Diop Quindi Quindi O P O P Alla fine O P Alla fine Ma 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 che è mob È morca padonna È morca padonna Dai raga No Cazzo Avevo scritto Medusa Più Avevo scritto Io scritto Medusa Con la M Ma Cazzo Porco Il cazzo Allora Come Vabbè Dai O Miki Italian Contro Diop Sì Vai Va a scrivere Proprio lui Salame No cos'è sta parola Ma lo fai apposta Io lo ti segnalo Facilissimo Ma perché usi la matita in urme Che sembri Sì veramente Finita Ma è una macchina fotografica Vabbè ok Sono un cazzo di genio Dai Stavo scrivendo Macchina fotografica Sì un po' più lunga Cazzo no Devici partare lo schermo Cos'è Suri Non è vero Non è vero Ah sì Stop Godo Centro Stupido Stavo dicendo È da tanto effettivamente Che non c'è in un tuo video Una parte tutta censurata No Vero Sai che stai dicendo queste cose qua Mentre io sto disegnando Una cosa abbastanza inerente Davvero Non è la madonna Lo dico subito E queste sono delle mani Che stanno facendo una cosa Qua Stop Comunque ho una mutazione genetica strana Ha un problema Ha un problema Ma è stato punito è stato Questo Non ho io Mi ha scuso un'atomica in mano Ma guarda quell'altro Che stupido Sei proprio un Veneto Guarda Uno che regge la bomba di Hiroshima E non capisco un cazzo Ma va il problema è che sei Veneto E non lo fate mai sta C'hai ragione Yes Mamma mia Sta bene col salame questo Aspetta Eccolo guardalo Non esiste in Germania questo Non esiste Non esiste Patate Crauti E birra Io voglio sapere cosa stava Secondo me a suo cervello c'erano Albume Centro dell'uovo Pulcino tritato Nascita Pulcino Aspetta ma ho sbagliato Ma che stupido Ma sei un ritardato No non è No non è che Scusa Non ne ho sbagliato Ma che cazzo è Cos'è quello No no è giusto È giusto È giusto È in inglese È giusto Ma Ma dai Ah Is Eh non Oh ascolta Sei anche a studiare laggiù Non mi dire che non ci sono Te le butto dalla finestra Io sono in Germania Tu no La dirò a un secondo Anzi a due Mailbox Mailbox Che droga Si è attivato il cervello irritato Eh ragazzi l'ho fatto apposta Fai caccare A meno non potevi indovinare Questa pesa Hai usato il fux Hai usato per fare giove Cos'è Campi Razor tu dovresti saperlo Cioè Così Le abbiamo scritte tutte Funi via Cabino via Funicolare Seggio via Che monte è Che fa un angolo retto Vabbè dai Insomma Dai che forse posso ancora rimontare Tipo Palese che vinci È un caso È un caso Con la fatta forma di Sì Ah no Merda Era l'ultima partita Che sdrogo Allora L'importante è aver battuto flame Cioè Ma vai a caccare La stessa classifica di prima È la stessa Ma non è vero Sono arrivato secondo Eh sì Ci sono Ah ragione Nulla Ragazzi Io vi ringrazio Abbiamo ristabilito Il futuro naturale Delle cose Basta Cosa Io vi ringrazio Per aver seguito Questo incredi video Salutate Ciao a tutti Bella raga Asbrega Ma anche fioi Ciao a tutti